Non posso nemmeno dirvi che vi scrivo, che mi scrivo con Elena, ho paura, ho paura, se tipo, se tipo vado adesso, vado a scrivere, vi dico ho parlato con Elena oggi, tipo un'ora fa, abbiamo fatto una chiamata, mamma mia quanto le voglio bene, possiamo parlare di una meravigliosa amicizia, piuttosto che un cazzo dentro una vagina, potete essere i miei confidenti, i miei confidenti in questo, non era sexting! Ormai lo hai detto, ma che cosa ho detto, che stiamo insieme, che scopiamo, è uno scherzo! E puoi rimanere singolo e scopartela comunque, cioè no, non parlare così di lei! Ehi, scopartela comunque, mamma mia che brutto atteggiamento che si ha nei confronti delle ragazze in generale, possiamo parlare di questa cosa? Parliamo di questa cosa? Le ragazze, anche se il mondo adesso è bombardato dalla difesa di queste ragazze qua, ci sono sempre atteggiamenti che vengono sempre fatti nei confronti delle ragazze, ma nei confronti dei ragazzi, ci avete fatto caso? Ci avete fatto caso? Non sto parlando soltanto di termini, di accuse, ma anche di trattamenti, di ostacoli alla loro sensibilità. Ci fate caso? Ci fate caso che questa cosa è proprio insita, insita, questa cattiveria è insita? E ci può essere tutta la sensibilizzazione del mondo, ma sembra veramente comune fare del male alle ragazze, sembra veramente comune, ma non solo fare del male, ma avere proprio un anome, un atteggiamento, cioè, alla fica, e quindi questo pretesto di alla fica già cambia tutto, già cambia tutto. Anche io, nei confronti delle ragazze, mi comporto in maniera diversa, lo ammetto, che io abbia un interesse fisico, che io abbia un interesse platonico, che io non abbia un interesse, ho tutte queste cose qua, io ho un atteggiamento presettato, me ne rendo conto, che è un atteggiamento dolce. Io con le ragazze sono dolce, nel senso sono morbido, anche perché, quando ero più piccolo, questa cosa, visto che a casa vivevo in una certa maniera, diciamo che ci sono arrivato a una pace del genere, perché prima con le ragazze avevo un problema. Adesso, come per scontare, chissà quale peccato che ho commesso quando ero più piccolo, adesso sento di avere una pulsione a... Avete capito? Dolce come un fottuto bignè, come un cestino di fragole, a differenza del tuo pene a fungo, sempre turgido, ma boh, stavo parlando di altro. Credo sia perché il maschio domina, e la cosa mi fa schifo, perché è vero, è vero, è vero, ci sono atteggiamenti maschili che sono atteggiamenti di merda. Ma se Vogue ti domina come quando vuole, la vittima sei tu, non lei. Sì, noto che quando scherza sul fatto che scopiamo, cita spesso il fatto che mi incula, cita spesso il fatto che mi tocca la cicatrice, ha una fantasia molto attiva. Che fai stasera in live? Tiro fuori il cazzo e la faccio finita con questo canale.